La Sagra dei Funghi Porcini 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 Lei signore si sente molto impegnata per questa festa Certo, certo Tutti gli anni è presente Allora il fulcro, il cuore di questo ristorante è gestito da Papone Antonio Che lui è pratico di carni, un grande conoscitore Mi dica qualcosa, il re del barbecue Come vedi abbiamo salsiccia, spiedini, oltre i funghi, poi ci sarà anche pasta La zona calda della Sagra, il bracere di Nuccio Sono il signor Unto Bisunto e bruciato Tutto viene alla braccia E anche qua si mette un goccino di olio extravaggine per insaporire il tutto E fissare Piano di cottura Se il fuoco è meno intenso si abbassa E poi se vuoi ce lo puoi tagliare i campi Qua ho la mia spalla L'aiutante in prima Signori, ecco a voi come avviene un po' la lavorazione dei funghi porcini qua a Torre Papone Dalla materia prima, tagliata, fine fine Dalle abili, in mani Della signora Margherita Ok Poi passa agli esperti qua che la infarinano con la farina Ok Con la pastella, acqua e farina Vieni avanti, vieni E un goccino di sale, giusto giusto Vieni avanti, venite avanti Ecco la grande padella per friggere i funghi Anche qua ci va molta abilità nel vedere quando sono cotti al punto giusto E naturalmente al fondo della padella c'è il famoso giogino Che se non sono fritti giusti non li fa andare avanti nelle pente Nelle pente, blocca tutto I funghi sono fritti nell'olio extravergine di Torre Papone Di cui ci sono molti produttori che hanno un olio sublime Fragrante, profumato Utilizziamo l'olio extravergine di oliva locale Abbiamo incontrato adesso il signor Papone Giuseppe Che è oltre 40-50 anni che organizza questa festa Presidente del gruppo sportivo Torre Papone Ci vuol dire qualcosa il signor Giuseppe? È un'avventura fare un'impresa così Per preparare tutto È impegnativa molto Speriamo che vada tutto bene Ci auguriamo Abbiamo l'onorata Presidente del Parco Don Zeno Del nuovo parco appena arrivato Torre Papone Arriva lei da Bergamo? Sì, arrivo da Bergamo Anche se sono già dal 92 Qui questa Diocesi 20.000 Sanremo Ho fatto il seminario a Bordighiera E dopo il seminario ho iniziato il mio servizio Ad Ospedaletti con il canonico Martelletti Poi sono passato parroco a Nervia Cristo Re di Ventimiglia E proprio sabato scorso Ho fatto l'ingresso a San Lorenzo al Mare E Torre Paponi e anche Bosco Mare Sono molto contento Ho trovato un'accoglienza fantastica da parte dei parrocchiani E questo è un buon inizio E spero che il tutto proceda bene Come vedo che anche questa festa Sta procedendo molto bene Dal punto di vista religioso E anche questo popolare Organizzativo Dalla gente di Torre Paponi Di questo sono molto grato e contento Noi la ringraziamo della sua presenza Ok? Grazie Siamo onorati anche dalla presenza di un veterano di questa festa Che è Marchinetto di Civezza Giusto? Da tantissimi anni che è presente Da quanti anni Marchin? Non so Da 30-30 anni Se sono una sessantina d'anni è sempre venuto Non ci può essere festa se non c'è anche la cassa Perché noi la cassa serve per pagarci tutte queste grandi spese che abbiamo avuto In particolare abbiamo due veterani della cassa Daniele e Luciano Capelli Rissi Buonasera Siamo qui Abbiamo iniziato appena la festa Speriamo che venga tanta gente La festa serve Perché noi con questi soldi che ricaviamo dalla festa Cerchiamo di abbellire il nostro borgo Che è uno dei più antichi di tutta la Liguria Dei più vecchi Dei più ben tenuti E speriamo di migliorarlo sempre il più possibile E sperando che la gente possa apprezzare questi nostri sforzi Perché il nostro è un piccolo condominio Di noi pochi che abitiamo in questo borgo Questo è tutto E vi aspettiamo sia stasera che domani che venerdì e sabato Sperando sempre che il tempo ci aiuti Buona serata Abbiamo incontrato anche un'altra vai d'aiutante La signora Isette Che arriva direttamente da Ginevra, dalla Svizzera Tanti anni che partecipa e ci dà una mano Esattamente E quest'anno è il secondo anno che aiuta Aiuto a pulire i funghi Io sono molto molto contenta Questa festa è la più bella festa del mondo Grazie Grazie I più piccoli aiutanti per la nostra festa Giorgio, Lucilla e Matteo Di qualcosa Giorgio Oggi siamo qui a Torre Questa è stata la sagra di Torre Aiutiamo a fare la sagra E te Lucilla di qualcosa E te Matteo Grazie per fare questa festa Grazie per fare questa festa E non so che dire Va bene, grazie Per ultimo e non per ultimo Andiamo a intervistare quelle che sono il fulcro della situazione Quelle che andranno a servire i tavoli Va i funghi, la carne, la salsiccia E sono due ragazze, Giorgia e Sima In particolare la Giorgia Geragno Cera Giorgia, cosa ne dici in questa festa? Niente, spero È bella, impegnativa Ci divertiamo in paese tutti insieme E spero vi divertiate Che vada tutto bene Bene, un saluto da Torre Poponi Grazie